Successo o fallimento? Grazia scrive Soffro di un disturbo alimentare tipo binge eating da 13 anni, scatenatosi durante una brutta depressione. Non riesco più ad avere un controllo sulla mia alimentazione. Ho fatto due importanti percorsi psicologici, ma non ho ottenuto nulla. Sono troppo tosta io, o troppo sofferente. Venerdì avrò la visita dal chirurgo bariatrico, perché per gravi motivi che riguardano la salute, ho assoluta necessità di perdere peso. Il mio terrore è di fallire anche con l'intervento. Ma cos'è il fallimento? Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa ho trovato il coraggio di affidarmi alla chirurgia bariatrica. Grazie alla sleeve gastrectomy ho vinto la mia guerra contro obesità, diabete, ipertensione, apnei notturne e steatosi epatica. Da allora racconto il mio percorso in questi video, perché la mia storia possa aiutare altri a trovare la loro strada per guarire dall'obesità. Se vuoi supportare questo mio progetto, basta che tu ti iscrivi al canale, guarda i video, lascia i like e i tuoi commenti, ma soprattutto condividi i video in tutti i tuoi canali social. Il fallimento ha mille sfaccettature, così come il successo. Forse usare parole come successo e fallimento è un po' pericoloso, perché prima bisogna definire che cos'è un successo e che cos'è un fallimento. Per esempio, Grazia lotta con il DCA da 13 anni, ha dei grovi problemi di salute e in tutto questo è obesa. Sono tre cose che vanno insieme, tre cose che si inseguono e si rinforzano l'una con l'altra. È un bel pasticcio, ok, ma come definiamo un successo in un caso del genere? Ovviamente se lei battesse l'obesità, battesse i DCA e battesse tutti i suoi problemi di salute, avrebbe avuto un successo completo. E se invece fa un intervento di chirurgia dell'obesità, batte l'obesità, i DCA non li batte ma riesce a tenerle un po' a bada, sarebbe un successo o un fallimento? Se invece fa l'intervento, perde tanto peso, risolve i problemi gravi di salute e fra 5 o 10 anni fa una di quelli che chiamano interventi di revisione, è un successo o è un fallimento? E forse bisogna ragionare su questo, capire da dove parti e vedere dove vuoi andare. Cosa ti muove? Ti muove la volontà di vivere meglio, di risolvere le malattie, le malattie intese come i gravi problemi di salute o altro. Forse serve una riflessione molto importante per definire l'obiettivo e quando definisci l'obiettivo allora puoi anche capire quanto sei vicino e quanto sei lontano dall'obiettivo. Per esempio, nel momento in cui tu torni su dalla sala operatoria e l'intervento chirurgico è andato bene, quello è un intervento che ha avuto successo. Quello è il successo dell'intervento chirurgico. Perdere peso, tanto peso, e passare da un'obesità grave di classe 3 a un'obesità di classe 1 al sovrappeso o al normopeso, è un successo. Certo, se da una classe 3 da un indice di massa corporea di 50 passi a un indice di massa corporea di 30, è un successo diverso che arrivare a un indice di massa corporea di 25, ma è comunque un successo, è dalla parte buona del risultato. Se fai l'intervento e dopo 5 anni fai una resleave o trasformi la sleeve in bypass perché nonostante tutto non sei riuscito a gestire tutto quello che arriva dalla vita di tutti i giorni, le difficoltà, i problemi, insomma, è un fallimento. Hai strappato all'obesità degli anni di vita, degli anni di vita di qualità. Hai avuto l'occasione di iniziare a fare un lavoro su di te, perché per quanto piccolo o quanto grande un lavoro lo stai già facendo se sei arrivata a considerare la chirurgia dell'obesità. Quindi è veramente un fallimento, non ne sarei così sicuro. Alla fine è una situazione all'Apollo 13, cercare di ottenere il massimo che puoi con quello che hai. È ovvio che se fossimo in grado di gestire al 100% i problemi che abbiamo nella relazione con il cibo non saremmo obesi. E se non fossimo obesi non saremmo qui a parlare di chirurgia dell'obesità. Magari saremmo qui a parlare di altri problemi, ma non di questo. Quindi è ovvio che abbiamo dei vincoli di movimento nelle scelte in cui facciamo e abbiamo dei limiti che dobbiamo trascendere per poter risolvere i problemi. Ma io faccio veramente fatica a comprendere il concetto di fallimento. La vita è un continuo cambiare, un continuo crescere, imparare cose nuove, allargare gli orizzonti. È così da quando nasciamo, non sappiamo fare niente e impariamo a poppare, impariamo a camminare, impariamo a parlare, impariamo a stare in mezzo agli altri, impariamo un mondo di cose e impariamo ogni giorno. Quindi i fallimenti sono un processo lungo la strada. Non sono tragici. Fatico a entrare in questa paura. L'intervento ti dà una spinta pazzesca, perché ti permette di perdere peso molto, molto in fretta e ti permette di risolvere o mitigare problemi che hai da un punto di vista clinico, medico. È una possibilità di poter fare altro che devi fare tu, devi volerlo fare. Stai già facendo un percorso con uno psicologo? E questo è importantissimo. Dici che non hai ottenuto niente, ma forse dipende sempre da come lo misuri quello che hai ottenuto. E alla fine, se anche l'intervento, il percorso bariatrico, dovesse fallire, in questo momento hai delle altre opzioni in mano? C'è qualcos'altro che non hai provato e che ragionevolmente ti può dare dei risultati? Perché l'intervento bariatrico ragionevolmente ti fa dimagrire. Poi ci devi mettere il tuo. Non è detto che sia facile, non è detto che ci voglia poco e non è detto che sia un successo immediato. Però inizi a svincolarti da una serie di problemi, ad alleggerirti non solo della ciccia, ma anche di un po' di preoccupazioni e un po' di problemi di salute, a trovare nuove energie con cui puoi fare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. E io credo che questa sia una grande esperienza. Io credo che quando io ho fatto il mio intervento di SLEVE ho imparato qualcosa di nuovo che mi sto portando dietro nella mia vita di tutti i giorni. Questa sensazione di rinascita, di cambiare radicalmente e di per poter ripartire con un assetto mentale nuovo non è una cosa esclusiva della SLEVE o del bypass o della chirurgia bariatrica, ma è una cosa che ci si rende conto volendo si può applicare in tanti altri frangenti della propria vita. Poter ricominciare, poter cambiare, poter modificare, crescere. Tante volte pensiamo di non poterlo fare, di non saperlo fare, di non essere abbastanza forti, abbastanza qualcosa per farlo, ma in realtà possiamo farlo sempre e comunque. Tante volte forse bisogna scrollarsi di dosso tanti preconcetti che noi stessi ci teniamo stretti e che diventano una gabbia. Uscire, cambiare, si può fare. La SLEVE mi ha regalato anche questo. Ci sono dei giorni che è difficile, delle settimane che è difficile o dei mesi che è difficile e in cui sarebbe tutto molto più semplice facendo spallucce e tornando a rifugiarsi in quello che ho fatto per vent'anni che non è solo aprire l'armadio e mangiare, l'armadietto e mangiare. E soprattutto il rassegnarsi che le cose sono così o aspettare che le cose cambino perché qualcosa o qualcuno le cambia è perché qualcosa fuori da noi accada. In realtà siamo noi che abbiamo il potere di partecipare a questo cambiamento, di innescarlo, di alimentarlo, di supportarlo, di fermarlo se non ci piace. Abbiamo tante possibilità che non sappiamo ne avere e che non consideriamo reali, ma ci sono. Forse toccando il fondo e arrivando a un intervento chirurgico per riprendere mano alla propria vita poi guardi le cose con una prospettiva diversa. È un'esperienza che ti porta a rivedere quello che hai intorno con degli occhi diversi. Comunque andrà, sarà un successo. Comunque andrà, sarà diverso. Comunque andrà, avrai portato a casa qualcosa di positivo. Fallimento o successo dipendono da cosa ti aspetti. Bisogna essere realisti e programmatici e per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di chi è professionista. Dobbiamo parlare delle nostre aspettative con l'equip, col chirurgo, con la psicologa, magari con la psichiatra anche se è necessario. Non è un problema. Però ci aiutano a mettere i bordostrada che ci portano all'obiettivo che abbiamo. Riprenderci la salute, liberarci dalla schiavitù di determinati meccanismi mentali, avere una seconda occasione. Questi sono degli obiettivi realistici. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividerlo su tutti i tuoi canali social. Se nei miei contenuti hai trovato qualcosa di particolarmente importante e utile per te, puoi lasciarmi un super grazie e abbonarti al canale per sostenermi anche economicamente. Qua, vostra destra e mia sinistra, troverete il link ad altri video su questi argomenti. e qui sotto invece i canali dove parlo di moto o di tutt'altro che non sia obesità, chirurgia e moto. Ciao a tutti e al prossimo video.